Dalla provincia di Napoli estendevano la propria influenza in Calabria, Emilia Romagna e anche in Spagna i quattro gruppi criminali dediti al traffico e allo spaccio di droga, sgominati dal nucleo della Guardia di Finanza di Napoli e dalla DDA che hanno eseguito oggi 16 arresti. I reati contestati sono associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzioni a fini di spaccio di droga, sequestro di persona a scopo di estorsione, procurata in osservanza di pena. Dalle indagini è emerso che i trafficanti importavano per lo più ascice e cocaina, come dimostrano i sequestri finora eseguiti, oltre 300 kg di ascice, 36 di cocaina e oltre 400.000 euro in contanti. Il sequestro di persona a scopo di estorsione contestato dagli inquirenti riguarda uno degli arrestati a cui vennero prelevati moglie e fratello per costringerlo a saldare un debito di 7.700 euro per forniture di droga non pagate. Il primo dei quattro gruppi criminali era capeggiato da uno degli indagati che ha accusato di essersi occupato della commercializzazione all'ingrosso di partite di stupefacenti in favore di clienti non solo campani ma anche calabresi, utilizzando dei corrieri. Il secondo gruppo, operativo a Napoli e province con ramificazione in altre regioni d'Italia, si occupava invece della distribuzione delle partite di stupefacente che forniva anche al primo sodalizio. Il terzo gruppo importava la droga dalla Spagna per poi trasferirla soprattutto al mercato irpino, il quarto e ultimo gruppo sgominato dai finanzieri aveva installato la base operativa Giuliano in Campania Interland a nord di Napoli, da dove commercializzava il narcotico in particolare in favore di un altro gruppo criminale che operava nei paesi vesuviani.